Un uomo che ha fatto la maratona fino a questo momento, bellissima questa immagine, lo sguardo di Gerindo Bordin, entusiasmante, entusiasmante, è tutto quello che questa maratona ci ha proposto, Gerindo Bordin, passa al quarantesimo chilometro e 600 metri, passa a condurre e va avanti ancora, il suo passo, il suo passo è sempre buono, splendidi questi ultimi tre chilometri della maratona, ma anche quelli che l'hanno preceduto sono stati entusiasmanti ovviamente, l'avete potuto vivere con noi, emozionarvi con noi. Guachi Uri tiene dentro e ha messo l'ardo, sta soffrendo, si porta ancora, Gerindo Bordin non è l'uomo di Longare, Gerindo Bordin è la maglia dell'Italia e dell'Italia che vince la sua medaglia d'oro e c'è anche per Gerindo Bordin il momento del grazie, un grande grazie, Gerindo Bordin il grande protagonista, è l'uomo che vince, è l'uomo che vive in questo momento la più grande soddisfazione che un atleta possa vivere. Gerindo Bordin Grazie 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 Grazie